Questa è la quattordicesima sdizione della Zeppolazio di fine anno organizzata dalla Proloco. C'è poca gente perché ovviamente fa freddo. C'è poca gente. C'è poca gente. C'è poca gente. C'è poca gente. bene, bene, bene no, ecco non bene, no, no qua ci sono i giochini e dopo la zeppolata i bambini assisteranno e gli spettacoli organizzati sempre dalla Proloco ci sarà il mago che farà degli esperimenti per sbalordire i bambini ecco lo spettacolo e i maghi per i bambini guardate come stanno accendi sono rapisti la leggenda del mago lo spettacolo ricordi è offerto dalla Proloco e poi lo spettacolo ricordi e poi lo spettacolo ricordi e poi lo spettacolo ricordi è un po' di bambini e poi lo spettacolo ricordi e poi lo spettacolo ricordi è un po' di bambini e poi lo spettacolo ricordi e poi lo spettacolo ricordi Grazie a tutti. 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 E qua. , ma... e... , ma... e... 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 , 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 ,... ,... , , ,... , , ,... 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 signori, le facciamola a principissina col vestito azzurro, allora sale sopra, ecco l'acqua bravissima, le facciamo una grandissima sperimenta sulla levitazione, attenzioni, guardate molto attenzione, mettiamo un po' di mosca dolce, eccola, le facciamo un carloso applauso, applauso caldo 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 dipping buona Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci andiamo all'altra nuova. Grazie a tutti. Comandi? Comandi? Lascia che... Allora, bambini, ho un cartoncino completamente buono. Io, l'altro l'ho? Chi vuole fare gioco con me questo? Allora, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Buonasera, buonasera, come ti chiami tu? Mi chiamo Nicolás. Facciamo un'applauso per Nicolás. Allora, un'altra bambina piccola che vuole venire? Vuole venire tu? Va bene, no, 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 va bene, va bene, va bene. Va bene, no, nemmeno, nemmeno. Come volete voi? Non sono di voi? Bene, allora va bene, solo Nicolás, basta. Eccola qua. Va bene, non sono di voi venire ancora. Delmeno due? Vieni tu, maschietto, vieni tu. Vieni tu, vieni tu. Allora? No, maschietto. Va bene. Come ti chiami tu? Massimiliano bambino. Massimiliano, un applauso per Massimiliano. Allora, prendo questo cartoncino, cartoncino completamente vuoto. Eccola qua, completamente vuoto. Tieni questa con la mano. Adesso io le prendo una e biuma. Eccola qua. Che colore è questo? Bene! Allora io metterlo qua. Limpi, indietro. Limpi, finite qua. Non andate dietro. Guarda tu, bambini, dietro. Mettolo qua. Bene. Magia, magia. La piuma cambia colori. Guardate. Voilà! Guarda, io sono un bravo mago, eh? Eccola qua vuoto, no? Ma è dimenticato la pacchetta magica. Eccola qua. Mettiamo di nuovo. Ah, giusto. Ecco, giusto. Tre patte. Uno, due, tre. Magia. 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 Adesso cambiate a colori. Voilà! Eccola qua. Eccola qua. Eccola qua. No, tieni la pacchetta magica. Eccola qua. Fai te ribattete magico qua. Aia! E qua, non la mano. Momento. Piano, piano. Dietro. Un, due, tre. Fai un soffio. Dica magia, magia. Magia, magia. Adesso prendo non cambia colore perché il mago quello sono io, quella più bravo. Prende la piuma. Non è cambiata nessuno colore perché il mago... Sì, ecco il mago quello. E' un po' di risultato. Ma mi sento. Allora, le prendiamo un'altra piuma. Eccola qua. Che colore è questo? Magia. Silenzio. Lo faccio dirti come sono bravo anche io. Uno, due, tre. Via. Magia. 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 Fa là. Magia. E' un po' di risultato. E' un po' di risultato. Guardate, io sono un bravo mago. Momento. Vai, bambini, un po' dietro. Ma però, piano piano, prende la bacchetta magica. Eccola qua. Fai tre battiti di maschio. Fai un soffio. Allora, dici, magia, magia. Magia, magia. Adesso prende, non cambia colore perché il mago può essere io quella più bravo. Prendela piano piano. Non è cambiato? No, no. Ah, no, no. Capite tu, Rocco? Lei nascita qui l'altra. Eccola qua, c'è là. No, momento, 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 bambini. Perché se no, è bravissimo come mago. E prende l'altra. Eccola qua. Chi colore è questo? Silenzio. Prende la bacchetta magica. Uno, due, tre. Magia. 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 Prende la piuma. Non è cambiata lo su. Prendela. Non è cambiata lo su. Sì. Guardate, io sono un bravo mago, eh. Adesso lo provo all'ultimo. Che colore è questo? Mettete qua. Uno, due, tre. Magia. Magia, magia. Magia. Voilà. Momento. Momento, sono un bravo mago. Allora vieni tu. Bravo. E dietro, dietro, dietro. Eccola qua. Eccola qua. Fai bacchetta magica. Adesso fai tre battite magico. Aia. Qua, non ha la mano. Vai. Uno, due, tre. Vai un soffio. Dica magia, magia. Magia. Prendela piano piano. Non è cambiato. No, no, no. Fermi, fermi. Fermi. È sempre cambiato il colore della piuma. Soltanto voi. Non lo conoscete il colore. Allora, chi colore è questo? Blu e rosso. Tutti insieme? Blu e rosso. Tutti insieme? Sì. No, sono gialla verde. State attenti. È compiato. Ma voi non lo... No, voi non lo conoscete il colore. Allora, chi colore è questo? Nero. Tutti insieme? Nero. Tutti insieme. Magia, magia. Nero. Facciate un soffio grandi? Tutti in colore. L'ha visto, bambini? No, 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 no. Allora, io... Neri, fa il balloncino con lusamente i bambini. Io, devo fare tutta la cosa, vai. Nero, passo. Grazie a tutti. 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 Ciao. Bimbico, il femma e il colore è un po'. Non possiamo stare così, bisogna avere un po' di spazio per muoverci un po' noi. Gaia! Chi colore è questo? Gaia! allora facciamo, fai un nuovo merito, tu due polari, eccola qua, due polari azzurro, eccola, uno, brava, e due, questo ha fatto mio amico Mirko Meligatti, l'ha vinto il premio di Master of Magic a canale 5, prego, tieni una mano qua, una mano qua, bambini, questo è un polare, che colore è questo? bambini, io le metto qua, le faccio un soffio e il polare sparisce, il cilindro è completamente vuoto, le metto qui, un soffio e il polare sparisce, le faccio vedere come se fosse un bravo mago, magia, magia, è sparito, non c'è più, non c'è più, è voto, è voto, è voto, dietro, va bene, è sbagliato, momento dietro, allora, parte mentre di qua, scusate, dobbiamo mettere di qui il polare, eccola qua, vero? e non ce lo dai, eccola qua, eccola il polare, io le faccio un soffio e il polare sparisce, le faccio vedere come se fosse un bravo mago, magia, magia, ma non c'è più, sparito, dietro, 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 bambini, per cortesia, dovete stare un, due metri ancora più dietro, bisogna muoverci con i giochi, per lavorare, a sinistra, a sinistra, a sinistra, a destra non c'è, a destra non c'è, nemmeno qui c'è, momento, sono un bravo mago, come ti chiami tu? Massimiliano, mettiamo il polare qua, eccola il polare qua, mettiamo come prima qua dentro, Massimiliano, adesso tu fai un soffio, 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 Grazie a tutti. 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 Don't you I've just... Don't you... Don't you... Don't you... Don't you... Don't you... Don't... Don't... Don't you... 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 bravissimo un applauso veramente perché di questa umidità molto difficili il pollo di sapone viene perfetta perché quanto c'è cartus compagno vengono più meglio bravo veramente bravissimo e una favola non 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 c'è tanto l'amore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti